buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati al vostro amico lp2 il 200 siamo ancora qui oggi con una puntata di zombie vegetariani oppure piante contro zombie un vero titolo è piante contro zombie è ancora la sessione dei giochi mini giochi per ipad con zombie un livello notturno e un po più difficile da manovrare ecco qui dobbiamo inventare le nostre piante in modo tale che questo qua la mangia tomba non metterò le nostre piante in modo tale che riusciamo a rompere le balle del zombie non valeva succedere se mangiano questo fungo questo fungo è la più potente della ciliegia ecco la fungo atomico questa sessione qua in questo mini gioco dobbiamo non fermare il più zon di possibile questo fungo qua che più alto è un fungo tiratore scelto potremmo chiamarlo perché praticamente praticamente cosa qua colpisce dalle lunghe distanze questa cosa vabbè la mangia tomba mangia le tombe e ci evita noie ci evitazioni di legge Questi scopi qua sono adicinogeni che ci verranno combattere i zombie dalla nostra parte. Mi ha dato un po' il casino eh, a livello notturno. Guardate questo per esempio. Zombie, alla larga, ho l'esercito di cante di struttrici, grazie. Questa è la notturno che sono quali più difficili perché non avremo a disposizione un girasole per fare luce solare ma dovremmo utilizzare anche tutti i fluidi. Ora i funghi di notte. Guardate questa faccia giocare, è una dei più resistenti. Ma non la tutta. Svevi che sono andati. E' un'altra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No problem. Scusate se questo livello di notturno si è dilungato parecchio ma come avete visto era bello incasinato. Mi sa che il nostro prossimo sarà un livello in piscina. Sì, è un livello in piscina. Scusate. Ok, che per questo primo turno, per questa prima volta, finisce qua. Dali Bitway, al prossimo video.